Siete mai fatti la domanda cosa faccio se scrivo una lettera e sbaglio una parola? Normalmente noi utilizziamo lo sbianchetto. Per rimallaggio flessibile la carta ed il cartoncino stampato avviene la stessa identica cosa. Nel momento in cui c'è un testo che è errato o obsoleto non ci sono possibilità di modifica se non mediante la sovrastampa. Questa è la nostra specializzazione. L'idea è nata da una piccola sfida lanciata da un cliente a quella che all'epoca era un'azienda che stampava su materiali neutri. Questo cliente aveva un'esigenza particolare che era quella di cambiare un ingrediente errato per cui aveva fatto la richiesta di intervenire su un materiale già stampato che era una richiesta nuova. Non era mai accaduta una cosa del genere e non c'era nessuno che era in grado di farlo. Nella sovrastampa le richieste sono a progetto perché ogni cliente ovviamente ha il suo tipo di materiale con le sue caratteristiche tecniche. C'è da parte nostra uno studio per capire come si può realizzare e se abbiamo gli strumenti per poterlo fare. Normalmente la sovrastampa avviene mediante due colori dove il primo colore serve per coprire vecchi ingredienti, il secondo colore per istampare i nuovi. Viene fatto uno studio a livello grafico a seguito del benestare del cliente si procede con la realizzazione degli impianti stampa per poi andare in rotativa. In questo caso la sovrastampa del cliente consisteva nel cambio dei testi. Siamo andati ad intervenire nella zona centrale del formato andando a coprire con una striscia colore argento sulla quale abbiamo ristampato i nuovi testi rosso. Qui l'intervento di sovrastampa si è concentrato in questa zona in quanto il cliente aveva chiesto un adeguamento della tabella e dei valori nutrizionali. Nell'imballaggio che stiamo vedendo ora invece il cliente necessitava l'inserimento di testi in questa posizione. Su tutta la parte centrale dell'incarto abbiamo inserito questa sovrastampa a due colori in oro e rosso. Nel caso di questo poliaccoppiato siamo intervenuti nella parte centrale del fronte, del retro e del fianchetto andando a modificare le diciture e i testi richiesti. Il nostro motto è ogni chilo sovrastampato è un chilo risparmiato. I benefici sono il risparmio di materie prime perché si utilizzano materiali già stampati. Il tutto viene condensato con un vantaggio per minori emissioni di CO2, minori consumi energetici e minore utilizzo di inchiostri per la produzione di una stampa. La nostra sfida per i prossimi anni è di apportare costantemente innovazione alla tecnologia della sovrastampa per intervenire su qualsiasi imballaggio in carto o in cartone risparmiando in questo modo l'impiego di materie prime e quindi seguendo ottimi i principi dell'economia circolare.